La partecipazione della Russia nel G8 rimane sospesa, anche se un suo ritorno non è escluso. Lo ha detto il Presidente del Consiglio Europeo, Herman Barron Pui, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles di introduzione ai lavori del G7, il vertice che terminerà oggi. Il G8, ha detto, è sospeso fino a quando la Russia non cambierà il proprio comportamento nella vicenda ucraina ed è prematuro pensare oggi a quando Mosca potrà tornare a sedere tra i grandi. Anche se ancora in dubbio, si tratterebbe dunque di una sospensione temporanea e non di una esclusione permanente. Spetterà al G7 decidere se e quando la Russia tornerà a far parte del vertice dei grandi. L'ultimo G8 è stato quello di Sochi, a cui però i leader mondiali avevano deciso di non partecipare proprio per la questione ucraina.